C'è una strage silenziosa di cui si parla poco, eppure sconvolge la vita ogni anno di alcune migliaia di persone. È quella delle morti durante incidenti stradali. Questi non sono eventi casuali, non sono eventi fortuiti o la sfortuna che colpisce qualcuno. Spesso dipende dalla condotta dell'uomo. E sono migliaia di persone, molte anche in campagna, che ogni anno perdono la vita. Ricordate l'ultimo caso, è solo di qualche giorno fa. Due carabineri in servizio sono rimasti uccisi in un incidente stradale prodotto da una donna che poi si è scoperto essere sotto gli effetti della droga e dell'alcol. Non possiamo dire che è il caso. Non possiamo dire che è stata una sfortunata coincidenza. Non possiamo parlare di una leggerezza. Anzi, sappiate che per esempio in Italia la principale causa di morte durante gli incidenti stradali è quella della distrazione perché si sta mandando un WhatsApp. Una vita può valere un WhatsApp. C'è bisogno di regole. C'è bisogno di intervenire con sicurezza, con forza, con chiarezza. Perché questi errori si pagano e non è giusto che persone perdano la vita, famiglie vengano squarciate, disastri e prospettive di vita improvvisamente annullate. Semplicemente perché non si riesce a bilanciare i propri piccoli interessi, le proprie piccole vicende quotidiane con quello più generale alla vita delle persone. C'è bisogno di un intervento dello Stato. Se ne parla da decenni, se ne parla in modo generale, generico, ci si lamenta. Addirittura se poi colpisce qualcuno che noi conosciamo il dolore diventa più forte l'urlo più alto. Però poi le cose finora sono andate sempre avanti senza che si facesse nulla di concreto. Ecco, finalmente questa storia sta per avere un cambio di passo. Io sono orgoglioso di dire che questo governo, in particolar modo Matteo Salvini, ha pronta una riforma del Codice della Strada che interviene con chiarezza su questo tema. Che non è un tema banale, non è una vicenda da sottovalutare. È qualcosa di concreto, che tocca la carne viva di tanti. Perché, fateci caso, nessuno di noi non conosce qualcuno che è stato vittima di un incidente stradale in cui è morto o rimasto gravemente, forse per la vita, lesionato. Quindi, finalmente, tra pochissimo, verrà formalmente approvato e entrerà in vigore il nuovo Codice della Strada, che non appesantisce di regole inutili, che non è la solita norma italiana piena di inutili cavilli che rendono soltanto complicata la vita della persona. No. Chiarisce alcuni punti fondamentali per rispettare la vita, che è il principale obiettivo di questa legge. E quindi, la pena vengono aggravate per chi guida senza patente, per chi guida sotto l'alcol o la droga, con degli interventi immediati. Per chi viene fermato sotto affetti di droga, la patente va via. Per chi guida il telefono, evidentemente non può non avere una sanzione e quindi anche in questo caso un passaggio concreto. Se ti fermano mentre stai col telefono in mano, lo stai addirittura utilizzando, in questo caso la patente ti viene momentaneamente revocata. Perché c'è bisogno di una sterzata seria, netta, precisa, ed è quello che questo governo sta già facendo e sta per diventare legge. È un atto dovuto per le migliaia di persone. Nei giorni scorsi ho incontrato una famiglia e soprattutto le associazioni di categoria con il ministro Salvini per dare atto di questo cambiamento. E nelle storie dolorose di ciascuna di queste persone c'è tutta la base sulla quale si fonda questo provvedimento. Che è un provvedimento di civiltà, che è un provvedimento che non impatta negativamente sulla vita delle persone, ma che consente di rispettare tutti, come è giusto che sia in una comunità, come è l'essere civile. Da questi eventi comincia un cambio di passo importante anche su un tema fondamentale che è quello della sicurezza stradale. Grazie. 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 Grazie a tutti.